Sono Francesco Stefanelli, da San Marino, rappresento di San Marino e sono 16 anni. Ho fatto il primo movimento del concerto Shostakovich, perché è un concerto molto potente, è pieno di energia e è molto potente. Qual è l'instrumento che ti piace, perché ti piace molto? Potremmo il sonore, la storia dell'instrumento, il coloro del sonore. Non voglio vincere la competizione, ma se vincere è una buona cosa per il canzio, San Marino e anche per me. Potremmo fare alcuni concerti, non lo so. Il più importante è di divertirsi e di divertirsi. Grazie. Grazie.